Tra le tante dichiarazioni in questi giorni circa utero in affitto e iscrizione all'anagrafe dei bambini conviventi con coppie gay è apparsa anche la dichiarazione del governatore del Veneto Zaia il quale in maniera molto salomonica dice delle parole che però sono davvero difficilmente comprensibili parole impolitichese e lui si dice sostanzialmente d'accordo sull'iscrizione anagrafica di quei bambini che già convivono con coppie gay ma si dice contrario, almeno questo sembra di essere l'interpretazione delle sue parole, sull'adozione relativa all'utero in affitto cioè ripeto sul fatto che due coppie gay comprino, di fatto perché di questo si tratta, un bambino e quindi lo adottino, un bambino che comunque non è loro, che è nato da una donna che è stata pagata appunto per arrivare a compiere la gestazione e via dicendo il ministro, il ministro, il governatore Zaia dice appunto io sono sempre per il concetto della libertà mia finisce dove inizia la tua questo sappiamo, ho già detto in un altro video, che è un concetto molto vago, molto generico perché poi dove inizi la mia e dove cominci la tua deve stabilirlo qualcuno ci sono dei paletti, questa è una frase che non trova alcun senso logico perché naturalmente il concetto di libertà è un concetto che nel tempo almeno dal punto di vista umano, non dal punto di vista di Dio, ma dal punto di vista umano è cambiato e lui dice sì, l'utero in affitto, andiamoci piano, mi pare di aver capito le sue parole perché c'è anche la libertà del bambino, del bambino appunto che nasce da gravidanza surrogata e c'è anche la libertà della donna che a quanto mi risulta non fa questa cosa volentieri beh, che la donna non faccia questa cosa volentieri purtroppo non è certo perché ci sono anche donne che a pagamento si prostituiscono anche io non parlo della prostituzione appunto quella forzata per cui ci sono anche persone disperate, persone disgraziate anche proprio nel senso negativo del termine che fanno queste cose anche sul proprio corpo per cui non è detto che siano forzate da condizioni sociali ma questa è un'altra faccenda però quello che vorrei chiedere al signor Zaia è la seguente cosa qual è la differenza tra iscrivere all'anagrafe un bambino che comunque non è nato all'interno della coppia gay perché la natura non lo permette questa coppia non ha generato questo bambino molto spesso questa iscrizione all'anagrafe sono appunto bambini che o sono di una delle due donne nel caso sto parlando chiaramente di due donne e quindi questa donna è ricorsa alla fecondazione eterologa per cui chiaramente questo bambino ha un padre che però questo bambino non ha il permesso molto spesso di conoscere perché è un altro disgraziato che appunto per fare un po' di soldini ha lasciato il proprio seme ad un ospedale per cui capite che io chiedo appunto al governatore Zaia qual è la differenza cioè da una parte abbiamo appunto un bambino che proviene da fecondazione eterologa o probabilmente da un'adozione quindi non è comunque nato all'interno della coppia e cresce con queste due persone che non sono comunque almeno uno di loro due non è il genitore perché la natura non lo permette ora parliamo semplicemente di donne nel discorso di uomini è ancora più complesso perché in quel caso non mi risulta che un uomo possa mettere al mondo dei figli pertanto si può trattare esclusivamente appunto di un'adozione oppure appunto di addirittura di un utero in affitto per tanto io chiedo appunto a Zaia qual è la differenza da una parte abbiamo un utero in affitto quindi un bambino che viene acquistato ma che non nasce all'interno della coppia dall'altra abbiamo con queste iscrizioni anagrafe quindi queste fecondazioni eterologhe oppure situazioni simili come adozione un bambino che non nasce all'interno della coppia quindi o si accetta tutto o non si accetta niente o si riconosce che i figli nascono da un uomo e da una donna perché è la natura che lo ha deciso o per chi crede Dio lo ha deciso e Dio ha fatto così e dunque non ci si può imporre oppure non si riconosce tutto quindi il riconoscere solo una metà dà diritto a chi è a favore dell'utero in affitto e io gli do ragione a queste persone a un procedimento logico io so già quale sarà la risposta al governatore Zaia ma se è permessa l'iscrizione all'anagrafe quindi se è permesso il fatto appunto che sia considerato figlio chi comunque non nasce all'interno della coppia perché non deve essere permesso anche l'utero in affitto se si pongono ragioni morali ma vedete che questa gente che è a favore delle coppie gay non accetta più valori morali imposti vuole farsi la propria morale allora perché non accettare l'utero in affitto capite dunque che accettare uno di questi punti cioè il fatto appunto che siano figli e siano riconosci come figli quelli che i figli non sono appunto all'interno delle coppie gay permette come diretta conseguenza logica la necessità logica di dover approvare anche l'utero in affitto e dunque anche la presenza il riconoscimento anagrafico appunto di questi bambini perché sono dei paletti che si distruggono da soli sono paletti che non hanno fondamento logico o imponiamo e riconosciamo il diritto naturale che è quello stabilito da Dio e che tutti noi sappiamo cioè il fatto che un bambino nasce per natura da un uomo e da una donna e che quella donna che ha avuto questo bambino lo ha avuto o per fecondazione teroga quindi da un seme quindi è quello suo marito è quello il suo compagno che però ovviamente è un altro disgraziato e quindi per soldi ha lasciato il suo seme e non vuole più saperne nulla e riceverà ovviamente la sua ricompensa da Dio quando finirà la sua esistenza per questo immenso peccato di non riconoscere il proprio figlio appunto come tale oppure proviene appunto da un'adozione pertanto se noi riconosciamo l'iscrizione anagrafica e quindi a tutti gli effetti di fronte alla società che quello è un figlio io non vedo perché potrebbero dire appunto logicamente parlando i sostenitori dell'utero in affitto e anche il riconoscimento di figli appunto che non provengono comunque dalla famiglia perché d'altra parte ripeto nessun figlio di coppie gay può dirsi proveniente dall'amore dall'amore appunto di una famiglia può dirsi adottato può dirsi cresciuto da queste due persone ma non può dirsi quindi il punto fondamentale è la nascita il punto fondamentale sul quale dobbiamo ragionare è la nascita se si riconosce se lo Stato riconosce appunto che si è figli anche se non si è nati appunto da queste due persone allora deve riconoscere anche l'utero in affitto dunque quei paletti posti da zaia per fare il progressista ma fino a un certo punto non reggono pertanto io sono e si sa lo sa chi ascolta questi video io sono per l'idea del diritto naturale cioè per il fatto che i figli sono figli in quanto che Dio ha deciso che un uomo e una donna abbiano dei figli e pertanto sono figli io sono per esempio contrario anche all'idea di considerare figli a punto di vista morale da punto di vista legale lo si è però a punto di vista morale i figli quelli di adozione perché comunque sia è giusto ritengo che sia giusto che un bambino sappia che suo padre e sua madre o almeno sua madre non sono quelli dell'adozione qui parlo anche di coppie etero perché così è giusto che sia però almeno se questa madre è riconosciuta ovviamente se questa madre è riconosciuta però ripeto se noi andiamo a porre un paletto questo paletto dell'anagrafica si utero in affitto no è un paletto che ripeto non tiene perché o ci si fonda su valori che sono sovrannaturali che sono al di là dell'uomo e sono i valori del diritto naturale quindi il fatto che un uomo e una donna siano i generatori della vita e su questo non si può discutere dal punto di vista scientifico visto che a loro tanto piace la scienza oppure si deve accettare tutto quindi il signor Zaia lei sa benissimo che quelle sue obiezioni peraltro dette in maniera molto timida per paura dell'elettorato perché sa che all'interno comunque della rega ci sono appunto persone a favore all'interno della destra persone a favore dell'utero in affitto ecco questa cosa cade da sola quindi ossia quando non si pongono più valori morali riconosciuti e condivisi perché questa gente vuole solo vuole solo l'egoistico riconoscimento dei propri desideri ma non riconosce più valori naturali quindi valori universali dell'uomo o si riconosce tutto o non si riconosce niente e questo apre la strada naturalmente in futuro anche ad altri riconoscimenti se vige solo il diritto dell'individuo trasformato poi ipocritamente come diritto del bambino quello che invece è diritto è volere è piacere appunto del singolo allora io non vedo perché in futuro questa cosa non possa estendersi dico paradossalmente ovviamente provocatoriamente anche ad altri diritti e purtroppo si stanno facendo strada altri diritti altri desideri in futuro vedremo sicuramente persone che vorranno aver riconosciuto anche all'anagrafe il diritto di sposare un animale è successo già e succede anche in america il diritto per esempio a sposare la sorella il fratello abbiamo già il caso l'ho ripetuto già in un altro video ognuno può informarsi anche su internet di due disgraziati fratello e sorella che hanno avuto una relazione sessuale dal quale sono nati ovviamente dico dei bambini disabili e sono stati accusati e condannati dallo stato tedesco perché l'incesto è per fortuna in Germania ancora un reato e loro hanno fatto una contro denuncia allo stato perché vogliono avere riconosciuto da disgraziati pazzi quali sono il riconoscimento del loro amore quindi portando avanti l'asticella un po' più in là siamo sicuri che in futuro vi sarà qualcuno che vorrà a vedere riconosciuto anche l'amore incestuoso su questo non ci sono dubbi è una facile profezia perché laddove appunto non vige più il diritto naturale quindi il diritto sancito da Dio nel cuore dell'uomo il diritto morale il diritto che è superiore ai desideri dell'individuo allora arrivano i desideri del singolo e allora queste persone stanno dicendo a noi perché se io voglio io non posso questo è il punto fondamentale le coppie gay sostengono che tutto ciò che loro vogliono è in loro potere e lo Stato glielo deve permettere questo è l'estremizzazione del liberalismo di uno Stato che non riconosce più nessun diritto fondamentale pensiamo per esempio all'aborto che è l'assassinio di un essere umano perché per un diritto superiore della donna di fare quello che gli è pare questo è il punto fondamentale quindi riconoscere un diritto assoluto all'individuo non permette più di fare alcun tipo di distinzione quindi caro Zaia o accetti tutto o non accetti niente è il punto fondamentale